Il novembre dell'80 va sotto di parecchi gol e sembra veramente essere estromessa già al sessantaduesimo di questa gara di andata che stiamo vedendo di Francoforte, 26 novembre dell'80. Al terzo già gol, gol di Neuberger, in vantaggio il forte Eintracht, 42esimo, il gol di Brokers, 2 a 0 per l'Eintracht, Brokers, secondo tempo, 53esimo, Olzenbein, tap in, sottoporta, 3 a 0, 53esimo, il gol di Olzenbein e il sessantaduesimo è il minuto del quarto gol di Nakvait, riprende e segna, rivediamo quest'azione, la palla sul palo, Nakvait, freddo, scarta un giocatore e mette dentro. Al settantunesimo si riapre la gara, anche se molto parzialmente, con questo gol di Genghini, settantunesimo e 4 a 1. Ma non è finita qui perché, 88esimo, il suo show prova a scalare questa montagna che ormai è diventata molto alta, c'è un autogol di Pezzei, e finisce 4 a 2 all'88esimo, il gol dell'Eintracht del 2 a 4 e adesso si può pensare a una rimonta nella gara di ritorno di Montbelliar del 10 dicembre 1980.